Buon salvone appassionati di Football Manager, io sono Alessandro, Lucullus Games su YouTube e su quella piatta forma vi do in live tutti i giorni, lunedì al venerdì da 18 sabato e domenica anche un po' prima, ma tutti i giorni li trovate precisi, precisi sul profilo Instagram Lucullus Games. Magari qualcuno di voi si ricorderà di un esperimento che facemmo su un vecchio FM in cui spostavamo Celtic e Rangers in Premier League, tema tra l'altro sempre attuale in questo mondo di leghe e superleghe, abbiamo trattato anche la questione Olanda-Belgio che vogliono fondersi anche loro. Quest'anno su FM3 mi sono chiesto cosa potremmo fare in maniera analoga e ho pensato alla penisola iberica, qui chiaramente non si parla di fare questa possibile fusione ma ho pensato, condividono questi due paesi tanti aspetti culturali, non la lingua, però a livello sportivo anche qui abbiamo una certa similitudine. In Portogallo sono tre i club più forti, Sporting, Benfica e Porto. Per quanto riguarda invece la questione Spagna, Atletico Madrid, Real Madrid e Barcellona vincono sempre loro. Manca un po' di varietà, bisogna ritornare alla stagione 2004 per vedere una squadra che vince una liga diversa da quei tre ed era il Valencia di Benitez. Il tema dell'esperimento qual è? Vedere magari una liga spagnola più competitiva con maggiore difficoltà, magari con un Real che non vince sempre con oltre 90-100 punti su FM3, quasi sempre così, ma soprattutto questi club portoghesi andando a giocarsi la liga spagnola riusciranno a vincere magari qualche competizione continentale in più perché rimanendo in Portogallo si qualificherebbero quasi sempre per la Champions che poi però dopo la terza stagione difficilmente possono vincere perché il format cambia e non si può più passare dalla Champions all'Europa League e quindi vincono sempre i club più ricchi come quelli inglesi ma magari stando in Spagna potrebbero qualificarsi un po' di più per l'Europa League e lì forse potrebbero avere qualche chance in più. Scopriamolo. Questo sarà quindi il contesto iniziale dell'esperimento con appunto Sporting, Benfica e Porto in Liga Sanadere in Spagna mentre in Portogallo abbiamo travasato Mallorca, Valladolid e Girona. Quindi mi chiedo anche, questi tre club spagnoli sono sì molto scarsi per la Spagna ma riusciranno magari a vincere qualche volta il campionato portoghese? Attenzione poi al tema registrazione. In Spagna c'è il Sari Cup quindi dovranno adeguarsi questi tre club portoghesi che tra l'altro non è detto che possono registrare facilmente tutti i giocatori. Lo Sporting per esempio ha un Sari Cup di 34 milioni. Attenzione perché possono registrare massimo tre extra e e lo Sporting ne ha cinque quindi dovranno vendere qualcosa sul mercato. Attenzione perché Sari Cup non l'ho deciso io, ha fatto le scelte, il gioco. Al Porto ha assegnato un massimale di 36 milioni. Vi ricordo che questo team ha ben otto extra e che dovrà gestire. Decisamente più fortunato il Benfica con un massimale di 53 milioni e 6 extra e quindi o gli dovrai vendere sul mercato o dovranno aspettare che acquisiscano la seconda nazionalità spagnola. E vi ricordo che ci sono però delle agevolazioni per alcune nazioni. Per esempio i giocatori che provengono da Sud America ci impiegano due anni per ottenere la seconda nazionalità spagnola. Per esempio accade con i brasiliani. Mentre ci sono proprio delle nazioni che non sono considerate extra e. Per esempio Serbia, Russia, Bosnia, anche molti paesi africani che provengono dai Caraibi e anche dal Pacifico. Giugno 2023 si conclude la prima stagione di questo esperimento ma al prima di andare a vedere cosa hanno combinato i tre club portoghesi in Spagna. Beh vediamo come si sono mossi sul mercato perché come ben sapete nella Liga Spagnola massimo tre potevano essere registrati come extra o e. Come hanno risolto il problema? Reis ha venduto praticamente subito nel mese di luglio quindi non ha neanche assaggiato la Liga Spagnola e questo è un giocatore con un CA tale che poteva far bene in tante squadre di media alta classifica per questo campionato ed è stato anche venduto per pochissimi soldi sotto i 10 milioni. Poi altra cessione questa volta però in prestito Artur Gomez. Se ne va anche lui in Brasile ma al Fortaleza con un prestito che potrebbe però trasformarsi in cessione visto che ci sta un pagamento futuro opzionale di 3 milioni e mezzo. Come si muove il Benfica? Beh più o meno nel stesso modo. Avevano 6 extra lei, dovevano liberarsi quindi 3 giocatori per lo meno e decidono di mandare in prestito al Bar Malf Gilberto con un costo anche qui futuro opzionale di 1 e mezzo che sarebbe tra l'altro regalatissimo e poi ancora più regalato Lucas Verissimo che si ne va in Arabia per meno di 5 milioni. Per quanto riguarda gli acquisti però da segnalare anche l'acquisto di uno spagnolo doc come Suso dalla Sibia anche qui però ha un prezzo veramente di favore. Suso arriva con un contratto pensate un po' sotto il milione. L'unico quindi che resta fuori dalla registrazione della Liga Spagnola è Simons che era arrivato in prestito quindi potevano sacrificare più lui ma anche perché a livello DCA era veramente scarso, giocatore veramente grezzo e quindi ha giocato al massimo qualche partita nelle coppe. Veniamo adesso alla questione Porto, quella sicuramente più delicata perché c'erano ben 8 giocatori extra oe ma la decisione del Porto è abbastanza diversa rispetto alle altre due squadre colleghe. Decide di non decidere infatti perché vede solamente Wendel che va via per meno di 2 milioni al Paciucca ma restano 7 giocatori di cui massimo 3 registrabili, di cui 5 di questi sono decisamente forti ovvero Uribe, Veron, Pepe, Evanilson e Taremi. Quest'ultimo però a differenza di altri 4 è Raniano quindi non otterrà facilmente la seconda nazionalità e evidentemente il Porto cerca in tutti i modi di trattenerli anche scontenti. Questa è la classifica finale della Liga Spagnola. Nel primo anno abbiamo un Lewandowski che vince il filo di Cannoniere con 30 gol sempre leggendario Ramos però già al secondo posto l'attaccante del Benfica quindi non mi sarebbe aspettato però uno Sporting che addirittura dovesse lottare per non retrocedere. Si salva per appena un punto e dato il tasso tecnico di questa squadra rispetto al Getafe a Lecce mi fa veramente strano. Abbiamo però anche un Benfica quarto ma possiamo realmente parlare di quarta forza portoghese? Se andiamo ad analizzare bene i puli di svantaggio rispetto all'Atletico sono ben 13 quindi diciamo che quelle tre restano comunque di un altro passo. Tra l'altro da notare però che il Real Madrid ha subito ben 43 gol. Ora non so voi se avete mai giocato quest'anno nella Liga Spagnola ma di solito a vincere il Real Madrid qualche volta anche il Barcellone sono squadre che possono anche andare a sfondare non solo i 90 punti ma anche i 100 alle volte. Quindi qui hanno risentito effettivamente di un tasso tecnico della Liga che si alza per via della presenza soprattutto di Porto e Benfica o sono state comunque impegnate in un anno no perché poi la Madrid in realtà subisce 43 gol non ho mai visto subire così tanti gol aria. Questo lo scopriremo nei prossimi anni. Per quanto riguarda invece la Champions lo Sporting arriva a terzo quindi scende in Europa Liga. Stesso discorso anche per il Benfica però qui c'era un girone di Champions veramente arduo. Testa invece altissima per il Porto che si qualifica come prima nel suo girone H. Poi però si ferma subito agli ottavi contro l'Inter. Ottavi che portano sfortuna anche agli altri due club portoghesi Sporting e Benfica infatti si fermano qui in Europa Liga. Giugno 2025 quindi terzo anno di questo esperimento siamo andati avanti quindi di un paio di stagioni in più e partiamo sempre dal mercato Sporting squadra che incassa 110 milioni perché sì e ancora sono i 22 23 ma è come se fosse già quella successiva perché siamo in estate dopo il primo anno e vengono venduti Ugarte e Pedro Porro ed è una squadra che si impoverizza tanto perché a parte la questione Trinzao quello che viene acquistato è veramente poca roba. Tra l'altro viene reinvestito solamente un decimo di quello che viene incassato. Stagione successiva stranissima. Ancora una volta poche le entrate quasi praticamente nulle le spese. Stagione invece numero 3 zero i acquisti arriva solo svincolato Kwame che sicuramente può essere visto come ottimo colpo per carità però poi va via anche quasi regalato Diomandè che è stato bustato con questo FM e una squadra che è messa veramente male a livello economico. I Stanley Cup sullo Sporting è di 53 milioni e 3 ma registrano solo per 44 e 6. La spesa però totale degli ingaggi considerando anche i giocatori non registrati e quelli delle giovani li sale a 62 milioni di una squadra con un passivo di quasi 30 a bilancio ma se andiamo poi a vedere i debiti sono tantissimi addirittura un altro debito a fondo perduto con 40 milioni totali da pagare entro il 2035. Ora ogni mese lo Sporting deve cacciare 2,4 milioni. C'è odore di defaulta. Se la cava decisamente è meglio il Porto visto che i milioni a bilancio sono 72. L'aspetto però carino è che il Porto può registrare al massimo per 48 milioni la rosa della Liga Spagnola quindi anche meno rispetto allo Sporting. Questo vuol dire che forse lo Sporting avrà vinto qualche trofeo negli ultimi anni. Il Porto però condivide con lo Sporting l'essere in maniera corta perché anche loro nonostante i soldi non spendono un granché. Questo era il mercato della stagione 22-23. Nella 23-24 arriva semplicemente Gustavo Hammer che sicuramente non è un fenomeno e arriva anche a costo zero. Per quanto riguarda la terza stagione anche una volta il peso delle entrate e delle uscite è veramente risibile. Il che, ripeto, per i soldi che è il Porto fa veramente strano. Tanti soldi a bilancio anche per il Benfica di Unai Emery, 86 milioni praticamente. Ma se andiamo a vedere quanto possono registrare hanno sempre il K sui 54-4, quindi non altissimo. Non un monte stipendi utile per, come al solito, affrontare Real, Barcellona e Atletico Madrid. Trama che si infittisce perché perfino il Benfica si comporta esattamente come gli altri due club pur non avendo problemi per economici. Arriva, si è detto, solamente Suso alla prima stagione. Alla seconda arriva un Vila, che parliamoci chiaro, non è certo un fenomeno. Vendono anche per meno di un milione. Terza stagione vendono per 30 milioni, soprattutto a causa di Morato, che se ne va praticamente in Cina. E qui sono però Pride a costo zero. La forza economica dei tre club portoghesi è simile praticamente a quella di Real Sociedad e Atleti Club di Bilbao. Qui la Sociedad di Benitez può registrare ad esempio per 58 milioni. Nonostante infatti non sia ricchissimo l'Atletico Madrid, 17 milioni a bilancio, continua a poter registrare teoricamente fino a 187. E il Barcellona con meno 200 milioni a bilancio può registrare persino per 241 e hanno persino sforato. Solo 30 milioni a bilancio per il Real Madrid nel 2025, quindi ci aveva ragione, Perez sono poveri, anche se poi all'atto pratico possono registrare fino a 325 milioni. Come farà mai uno Sporting, un Sociedad a vincere la Liga Spagnola? Diamo quindi uno sguardo alla classifica nelle ultime due annate. La seconda ritorna un'altra volta in Real, solito, con oltre 90, quasi 100 punti. La migliore scuola portoghese, questa volta è il Porto, che ne fa 68. Il Benfica e lo Sporting restano fuori dai giochi. Nella stagione numero 3, ovvero la presente, la 24-25, vince ancora il Real con oltre 90 punti. Porto terzo con 73 punti. Sporting si qualifica lo stesso per andare in Europa, mentre il Benfica resta fuori dalle coppe. Il 2025 è un anno storico per questo esperimento, perché il primo trofeo spagnolo conquistato da un team portoghese è la Coppa di Sua Maestà, il Re, vinta dallo Sporting nel 24-25 ai Dani del Real, che a sua volta aveva battuto lo Sporting in finale l'anno prima, nella stagione 23-24. Sorprese però che non finiscono qui, perché la finale di Europa League è tutta iberica, Real Betis spagnola contro la portoghese, in terra spagnola però, Porto, che si porta a casa l'Europa League per 2-0 doppietta di Eva Nilsson ai tempi supplementari, ma accade anche un'altra cosa che a me non è mai accaduta su FM, ovvero si rompe il portiere avversario, addirittura al 49esimo esce Diogo Costa. Salti in avanti nel tempo di altri tre anni, quindi sei anni dall'inizio di questa simulazione, in questo esperimento lo Sporting resta sempre in difficoltà, a livello economico servirebbe uno Sugar Daddy, ma in panchina c'è Mark Van Bommel, le acque del Benfica sono sempre dirette da Unai Emery e il suo 4-4-2, il bilancio migliora perché possono addirittura permettersi 100 milioni e passa di stipendi, questo perché finalmente è il primo team portoghese che riesce a innalzare un bel po' il suo salary cup, che può arrivare fino a 91 milioni per registrare giocatori in Liga Spagnola. E non se la cavano malissimo neanche i dragoni del Porto guidati da Ernesto Valverde e dal suo 4-3-1 perché il bilancio sale a 121 milioni, un monte di stipendi di oltre 100, ma per registrare la prima squadra in Liga anche loro superano i possibili 90 milioni. La situazione in pratica non è migliorata solamente per lo Sporting, ormai la Coppa Nazionale Spagnola potrebbe tranquillamente chiamarsi Coppa Portoghese, sono quattro edizioni di fila che vincono sempre quei tre club. Dopo lo Sporting nel 25, doppietta delle Benfica nel 26-27 e stavolta è il Porto a battere il Barcellona, 2-1 in finale. Porto che tra l'altro riesce a vincere anche come unica squadra portoghese la Supercoppa Spagnola nella stagione 2025-2026. Ce l'avevamo lasciati con la terza stagione, ovvero la 24-25. Guardiamo cosa accade alle ulteriori tre. Questa è la stagione numero 4, la 25-26, dove il Real vince ancora lo Scudetto con 87 punti. Arriva solamente terzo il Benfica con 70. Porto e Sporting comunque riescono a partecipare alle competizioni europee. Stagione numero 5, attenzione perché non solo si rifà lo Sporting, ma addirittura il Porto riesce a sfondare il muro degli 80 punti. Non era mai successo. Ricordate che il primo Scudetto, la prima Liga di questa simulazione la vince una squadra spagnola con solo i 79 punti e adesso invece non bastano perché il Real è tornato a fare il Real Madrid 102 punti. Quindi sì, possiamo dire che i team portoghesi hanno sicuramente dato maggior lustro alla Spagna perché qui abbiamo ben 9 partecipanti alle competizioni continentali in questa season. però il Real resta comunque la squadra da battere perché nessuno finora l'ha mai spodestato a parte la prima stagione particolare dove ha vinto il Barcellona. Andiamo alla stagione presente, ovvero appunto la 27-28. Ancora una volta vince il Real con 88 punti. In questi primi sei anni di simulazione nessun club portoghese ha mai vinto la Conference. Per quanto riguarda invece l'Europa League, beh qui la situazione è cambiata. Abbiamo lo Sporting che addirittura vince due volte nel 26 e nel 28 e avevamo già visto anche il Porto nella stagione 2025. Ma in Champions non c'è storia. Vincono sempre i club molto ricchi, ovvero quelli inglesi. Dal 23 al 28 non esiste altra nazione che l'Inghilterra. Ulteriore salto in avanti nel tempo di quattro anni questa volta ma è un salto definitivo perché questo è il 2032 ed è qui che terminerà l'esperimento. Facciamo quindi un recap delle varie competizioni continentali e nazionali. Per quanto riguarda la Conference League, due soli club per la Spagna hanno vinto e sono Villarreal e Porto. Porto però in realtà è un club portoghese travasato appunto in Spagna. Mentre per quanto riguarda l'Europa League la situazione è completamente differente. 6 edizioni su 10 sono stati vinti da un club che va a aumentare il coefficiente spagnolo anche se 5 volte sono club portoghesi travasati in Spagna. Sporting e Porto manca all'appello il Benfica che però, attenzione, è l'unica squadra che riesce a giocarsi una finale addirittura della Champions League. Poi chiaramente Gutmann ci mette il suo piedino come al solito e questo Benfica non vince. Però manca clamorosamente. Barcellona, Real, Atletico non sono mai arrivate a disputare una finale di Champions. Nella Liga Spagnola ci eravamo lasciati la stagione 27-28 ovvero la sesta. Vediamo cosa accade nelle ultime quattro. Questa è la settima. Ancora una volta vince il Real con 94 punti. Poi nella successiva settima stagione ancora il Real con 91 punti. Sporting, Porto e Benfica continuano comunque a partecipare alle competizioni continentali. Per la stagione 31 ovvero la penultima ancora però vince il Real Madrid. Il Benfica ci prova veramente ad avvicinarsi ma resta sotto di 9 punti rispetto al Real. Questo era il miglior risultato. Vi posso già anticipare perché l'ultima stagione vede ancora una volta vincere il Real Madrid. Quindi in sostanza il Real ha continuato come se quasi non ci fossero mai state Benfica, Porto e Sporting. Anche se Benfica non riesce mai a vincere questa competizione 7 volte su 10 il capocanoniere del campionato spagnolo è un giocatore del Benfica. Alla Liga Spagnola è sicuramente convenuto avere questi club portoghesi trapiantati perché il coefficiente è cresciuto tantissimo e molti più club sono stati mandati in Europa. Ma a questi club portoghesi è davvero convenuto giocarsi la Liga anziché la Liga NOS portoghese? Per provare a rispondere a questa domanda però voglio sfruttare anche un altro save dove non ho toccato nulla chiaramente del campionato portoghese infatti trovate Sporting, Porto e Benfica correttamente presenti nella Liga NOS ma ho mandato avanti di 10 anni questa competizione per vedere cosa sarebbe accaduto. Per quanto riguarda l'Albo d'Oro 8 volte su 10 ha vinto il Porto una volta il Benfica, una volta lo Sporting. Forse Porto possiamo dire avrebbe preferito rimanere in Portogallo. In Portogallo quindi è facile vedere vincere quasi sempre Porto, Benfica e Sporting ma vi siete chiesti perché succede sempre questo? Certo il tasso tecnico iniziale di quelle rose è sicuramente più alto rispetto ai restanti team portoghesi ma in realtà guardando nell'editor pregame alla voce di RitiDV per quanto riguarda il campionato portoghese si scopre che la metà di tutto il budget di RitiDV se lo spartiscono proprio quelle tre guardate è presente un contratto specifico proprio di 50 fisso per Sporting, Benfica e Porto il resto dei circa 150 milioni se lo devono invece suddividere gli altri team portoghesi in base al posizionamento in classifica si beccheranno queste cifre l'ultima appena 3 milioni come si fa a competere con quelle tre se rimane questo status quo? Allarghiamo il raggio d'azione di questo quesito però anche le competizioni continentali perché in questo futuro alternativo dove i club portoghesi restano in Portogallo la Conference non ha cambiato più di tanto della questione perché solamente un club portoghese riesce a portarsela a casa ed è anche in una finale tutta portoghese contro il Famalisao vince appunto lo Sporting per quanto riguarda invece l'Europa Liga la situazione cambia da così a così nessun club portoghese riesce mai a vincere questa competizione anche se il tasso tecnico vedo che è più alto in questo futuro alternativo vengono spesso club molto importanti come per esempio lo United per quanto riguarda la Champions non ne parliamo minimamente neanche in finale arrivano i club portoghesi però devo dire che in questo caso il Real fa una figura migliore ne vince tre di fila di Champions sempre in questo futuro alternativo per quanto riguarda la nazione Portogallo si mantiene la sesta posizione nel coefficiente quindi verranno sempre mandate tre squadre in Champions due dirette una si farà la partecipazione all'Europa League direttamente due andranno anche in Conference tramite playoff l'aspetto però curioso è che qui adesso siamo ritornati invece all'esperimento e il Portogallo non ha praticamente subito granché per quanto riguarda il coefficiente avendo tolto Sporting Benfica e Porto uno magari si aspettava che il Portogallo crollasse mantiene invece anche qui la sesta posizione e porta sempre qui di sei squadre nelle competizioni continentali e diamo quindi anche uno sguardo a ciò che è accaduto ai tre club spagnoli travasati in Portogallo qui siamo sempre nell'esperimento dove nella prima stagione senza Sporting Benfica e Porto il club a vincere la competizione e il Braga poi Mallorca poi Braga e poi sempre Mallorca finché non accade il cambio nelle ultime due stagioni il Vizela che non ha mai vinto nulla nella sua storia si porta a casa la competizione nel 3031 quella attualmente invece disputata se la porta a casa il Valladolid ma analizziamo anche i punti perché sono molto bassi molto più bassi rispetto a una normale situazione dove il club portoghesi vincerebbero il campionato con 80 o 90 punti qua invece addirittura con 65 punti si porta a casa il campionato il Vizela questo cosa ci fa capire che i club spagnoli più scarsi non solo hanno avuto vita facile in Portogallo per far capire effettivamente che tolte quelle tre squadre la situazione portoghese è messa veramente male ma ci fanno anche capire che il campionato adesso è molto più omogeneo perché bastano anche 60 sbarra 70 punti quindi meno di 10 punti in meno per portarsi a casa questo campionato a differenza dello Sporting che se l'è passata malissimo a livello finanziario Benfica e Porto riescono ad alzare notevolmente i loro monti in gaggi il Sali Cup nel 2032 per il Benfica di Unai Emery infatti di 120 milioni situazione analoga anche per il Porto di Conte che nel 2032 può registrare fino a 120 milioni Benfica e Porto sono diventate quindi la quarta e quinta forza della Spagna come è possibile tutto ciò? beh perché ovviamente gli introiti del TV in Spagna sono stati più alti per Benfica e Porto rispetto allo Sporting qui si parla chiaramente anche in base alla posizione in classifica o che ha blasone e ad altri fattori ma vedete come qui il Benfica in questa stagione solo per la Liga St-Adder si porta a casa 98 milioni quindi il doppio di quello che normalmente prenderebbe in Portogallo c'è però anche il rovescio della medaglia devi pagare anche di più gli ingaggi dei tuoi ragazzi infatti guardate la spesa del Benfica in ingaggi 132 milioni questo comporta dei sacrifici poi quando vai ad acquistare ecco perché spendevano poco i team portoghesi perché bisogna provare soprattutto a rinnovare diciamo i tuoi ragazzi è lì che vanno soprattutto i soldi ma qui abbiamo ordinato la rosa del Benfica in termini di CA il giocatore più forte è Gonzalo Ramos 162 punti in CA poi Sheldrup 160 ma i volti nuovi quali sono? non sono tantissimi quelli da ricordare Ruslan sicuramente il russo che è stato acquisito per 38 milioni ora ne vale 65 71 poi ci sta Camara preso a costo zero questo sicuramente un'operazione pazzesca e poi Antoine Mendy anche qui pagato 21 milioni ma ne vale già più del doppio il giocatore però più forte di tutti i team portoghesi resta questo Nugent Domenech Cabrera 178 di CA ma è stato pagato anche tantissimo lo hanno prelevato dall'Espagnol per 70 milioni il Porto qua cosina in più la spesa altri volti da segnalare per il Porto beh ci sta Yeboah che hanno prelevato a costo zero ex giocatore del Genoa Ioan Gonzales ex giocatore del Lecce pagato 20 milioni abbiamo anche Di Gregorio ma io segnalerei anche un altro nome ovvero Calvin Phillips pagato qualche anno fa 48 milioni ormai non vale granché perché il suo cia è crollato visto che ha 36 anni a a a a a a a a